buongiorno adesso vi racconto un po' il covid questo è il regalo è uno strascico sono negativa ormai da una settimana e tutto è iniziato come una piccola influenza piccola media diciamo febbre mal di ossa per tre giorni dopodiché sono partiti tutta una serie di sintomi molto particolari ti si tappi completamente il naso come se avessi il raffreddore più brutto del mondo ma non c'è raffreddore non ho fatto i soliti le solite montagne di fazzoletti ma ero semplicemente completamente chiuso e poi dicevo c'è la tosse che all'inizio è secca poca fortunatamente infatti non ho avuto problemi di polmonite fortunatamente dopodiché diventa grassa diventa grassa insieme al naso tappato qui si crea credo di aver prodotto muco quantità industriali di muco finalmente a un certo punto si libera il naso il catarro dopo due settimane inizia a diminuire però ci sono tutta una serie di sintomi che in queste tre settimane ci ha impiegato tre settimane a diventare negativa c'è un'astenia a livelli assurdi l'astenia è stanchezza non hai più febbre magari solo un po' di tosse appunto il naso tappato ma la testa esplode ti senti dei martelli pneumatici nella testa non non ho la forza non ho avuto forza di fare nulla e ancora non ce l'ho anche se sono negativa ci prende nei punti in cui siamo più deboli no io faccio la cantante quindi per me l'apparato respiratorio naso orecchie sinusite è molto delicato tant'è che appunto oltre la congiuntivite fortunatamente non ho avuto la diarrea ecco perché c'è anche tra i sintomi anche questo ma ho avuto tutto ho avuto tutto congiuntivite mal di testa pazzeschi a grappolo che poi sono sfociati improvvisamente in un otite io ho avuto tante otite da piccole credo tutti noi no si risolve con un po' di goccine antibiotiche forse una pastiglia se una otite un po' più forte delle altre bene l'otite da covid invece rischia di diventare encefalite è molto forte è fortissima e io oggi sono ancora a casa spezzata perché praticamente questa otite mi si è infiammata a dei livelli incredibili e mi ha bloccato completamente tutto cioè mi sentivo gli orecchioni come quando siamo piccoli adesso mi sto bombando punturando incredibile e ancora non sto bene perché poi ovviamente ero ero gonfissima una cosa che questa infiammazione poi dall'orecchio era passata tutta il collo la cervicale la schiena e questo è il motivo per cui io sono qui sentite questo rumore no non sono monetine sono nocciolini di ciliegia riscaldati al forno perché sono l'unica cosa ovviamente sapete calore anzi di cervicali otite è un po' l'unica cosa che dà sollievo detto questo sono negativa raga certo è che ho scoperto che gli strascichi del covid fanno forse più male del covid stesso sarò pur negativa ma io mi sento un male cane io non riesco a fare ancora nulla e ho ancora una serie di tutti questi mini effetti collaterali sentite anche e dalla mia esperienza ho imparato questo ho imparato che non è assolutamente come un'influenza anche se può manifestarsi che ognuno di noi la prende in modo diverso c'è chi è sintomatico c'è chi fa semplicemente due starnuti mamma mia come vi invidio come per esempio non posso dire chi una persona a me vicina e chi come me invece c'è quando la sfiga si mette lì è ovvio ci vede benissimo ci prende nei punti deboli ci prende ci prende dove siamo più delicati più che un'influenza io direi che è una sorta di infiammazione a 360 gradi nel nostro corpo che va veramente dalla testa ai piedi cioè dagli organi alle articolazioni passando per i muscoli quindi il mio consiglio è veramente di stare a casa e di tentare di non prenderlo perché nonostante la famosa febbre se ne vada subito ora detto questo mi auguro che le mie parole non vengano di nuovo tranciate per essere strumentalizzate per non so chi non so cosa non so quali click baits o non non so quale categoria per farci scagliare contro chissà chi ma appunto spero che queste mie parole vi possano servire in generale per sapere qualcosa di più e anche per farvi capire far capire magari negazionisti che come dire